ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video questo è un make up tutorial di halloween ispirata a morticia della famiglia adams mi piace tanto questo personaggio perché è gotico io adoro il gotico ho usato nuovi nuove palette che avevo acquistato come la slick è una palettina che occhio acquistato sul sito pic panda le ho volute mettere alla prova mi sono trovata molto bene poi ho usato varie cose che già avevo nella mia collezione di make up se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su commentatevi e iscrivetevi per non perdere i nuovi video io vi lascio al tutorial ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.